La vecchia guardia del fascismo torinese è stata chiamata a rapporto. Più di 3500 camicie nere, quelle della vigilia, che con l'esempio del loro coraggio, la forza trascinante della loro fede, se però negli anni oscuri del sovversivismo mutare il volto della città e farne una delle più fedeli, hanno sfilato per le vie principali, raccogliendosi quindi in piazza Carlo Alberto per l'appello del fondatore del fascio di Torino Mario Gioda e decaduti per la causa della rivoluzione.